Qua è importante, prova, con tutto non riesci, molto più profondo così non devo, vedi così ma, si, è importante che sei qua, prendo il gomito, dovrdle il gomito... Grazie. grazie Siete. Vedete il mio pute vò uccidere. Prova un provo. No vado in questo giudere. Hop. Oh, adesso si. Vai. Dove che stai. Okay. Grazie. Ok, qua deve essere molto... Qua? Sì. Ah, sì. Stop. Qua è importante... Ma io chiudi questo angolo e qua controllo le forzioni di mia gamba per non permetterci il giro. Qua è? Con due gambe. No, con due braccia in talone e questo tipo. Ah, stop. Inciò. Stop. No, fattigli. Giuseppe. E semplici. Non so chiude. La storia è lunga. No, non so chiude. Ha, che domani. No, non so chiude. Ah, perché ci succede? Ah, anche il giusto. Ah, stop, stop, stop. No! Ah, è una foto. un'altra cosa dai che ci sono sono capi sbagliato sbagliati una cosa così pam pam no io ricordo che faccio il triangolo così ok 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 no 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 sento dolore si 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 no e la nuova è un'altra metà lì e in tutto il mio questo e poi ecco ah ah hai i un Prova a girarti, provo a girarti, a girarti, a girarti, io scappo, io scappo, 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 scappo. Girarti, continuo a girarti, continuo a girarti, vai vai vai, girarti, girarti, non tanto, adesso fai i dolori, solo tra le gambe fai scambio, fai 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 fai.